Allora ragazzi, prima notte passata sul gioco, ieri siamo riusciti, stanotte siamo riusciti ad accedere tutti quanti al gioco, chi ha avuto gli FC Points, qualcuno che è entrato più tardi non li ha avuti, ma li avrà comunque, mercato che si è messo veramente in modo serio perché già dal pomeriggio c'era stato l'accesso dell'Xbox, poi c'è stata insomma un po' di affluenza serale che iniziava ad entrare piano piano, poi dalla mezzanotte tutti quanti dentro con gli FC Points e soprattutto con questi pacchetti che sono arrivati nel negozio che attualmente non sono shoppabili con gli FC Points perché non si sa che cosa è successo, c'è un messaggio d'errore che dice che non si possono acquistare con gli FC Points, infatti hanno disabilitato i tasti, comunque c'è questi pacchetti più tutto quello che la gente ci ha caricato, oltre i 4.600, hanno portato una grossa movimentazione al mercato, si sono mosse tutte le carte gameplay come immaginavamo, infatti sono riuscito nell'arco di già due giorni a passare a 508, ho venduto pure qualche altra cosa perché stiamo a 53, quasi 555, 50k di profitto, partendo dai 100k di profitto più o meno che avevo messo da parte con gli FC Points l'altro giorno Il mercato è molto vivo, ci vuole tempo in questa fase dell'anno però ci sono varie opportunità, quindi oggi vi spiegherò un po' cosa dover fare, diciamo per due fasce di budget prevalentemente e due fasce di conoscenza del gioco perché soprattutto in questa fase dell'anno non conta solo avere budget ma conta soprattutto sapersi muovere sul mercato, anzi direi di più, conta più sapersi muovere sul mercato che non avere troppi crediti, infatti con 100.000 crediti sono riusciti ad arrivare a 500, magari chi partiva da 300 non c'è arrivato perché in questa fase dell'anno non è meccanica la compra e vendita ma è fatta di tante piccole occasioni che si devono trovare nel mercato e ci vuole anche tempo ovviamente quindi si poteva fare sicuramente di più ma stando in live, avendo mille cose da fare va bene così, si punta a raddoppiare nell'arco di altri 2-3 giorni Partiamo dai consigli per chi ha poco budget ed è poco esperto, quindi diciamo condizione peggiore, poco budget per me vuol dire sotto i 100k, non credo che ci sia gente che ha sotto i 100k o comunque enormemente sotto i 100k perché con i pacchetti, con i 4.600 FC points, anche con lo scarto dei pacchi, pure semplicemente magari chi accede oggi non riesce ad aprire questi ma ci sono i pacchetti questi qua con le anteprime no, vi ha aprito il pacchetto con l'anteprima, il valore di scarto di questi pacchi avendo i 4.600 FC points vi porta almeno a 70-80k però non dovete buttare nel club niente, cioè io prima vi ho fatto vedere che il mio club non c'è niente di vendibile, né porte, né linee, né maglie, non c'è niente tutto quello che ho trovato dai pacchetti, consumabili ho provato a vendere gli stili intesi, tutto il resto che erano roba da stadio, struttura, maglie, ho venduto esultanze, tutto, tutto dovete vendere ho venduto anche i giocatori, giocatori che erano, insomma, giocatori piccoli, se avevano mercato ho provato a venderli, se è roba da 300-400 crediti che non si riesce a vendere potete anche pensare di scartare per fare più budget velocemente l'obiettivo è arrivare ad avere una liquidità piccola, almeno da 100k, 80k non fatevi la squadra, secondo me, perché io sto giocando con degli scappati di casa perché mi sto concentrando prima nelle battle certo, se volete iniziare a giocare nelle rivals, provare a fare le qualifiche, giocare, che non so, in modalità che richiedono una squadra ovviamente meglio di questa che vedete a schermo che sono giocatori che mi sono rimasti non scambiabili da dentro i pacchetti, allora ve la fate ma in questa fase del gioco, secondo me, pure andare in rivals è un po' un suicidio visto che abbiamo i premi rivals la settimana prossima, c'è tempo, secondo me, il primo target deve essere andare sulle battle perché le battle ci saranno i premi domenica e credo domenica, non ho manco controllato a dire la verità, dovrebbero essere sempre domenica quindi il primo target è sempre andare in modalità come le battle in aggiunta potete anche giocare rush, squad battle e rush la domenica, ci saranno i fresh degli obiettivi giocate anche rush, rush basta un giocatore, giocate con gli amici, piate il barcolà di turno, poi piate un giocatore così andate lì e giocate, non è che per forza dovete andare a giocare con Vinicius, Bellingham e così via il budget, se è poco di 100k, quindi dove lo andate a mettere? allora, secondo me, le cose che si stanno muovendo di più sono le SBC perché si sono messe in moto, anche se Footbin purtroppo ultimamente sta a pezzi sta totalmente a pezzi, vedete che se clicco ho preso un Nunez a casa, non sta tracciando i prezzi non riesce a tracciare ancora i prezzi, non ho capito ancora perché comunque sta lavorando malissimo avete un'alternativa con FootGG se volete confrontare i prezzi il problema è che FootGG non è conosciuto come Footbin quindi a livello di numeri che fa Footbin e soprattutto di gente che va a guardare Footbin anche per le SBC, ovviamente questo penalizza perché se andate nella tab delle SBC, ci sono le SBC, le hanno già messe ma non ci hanno i prezzi e non ci hanno manco le proposte solitamente i migliori target, ne avevamo già parlato, sono queste per avere dei target da SBC però senza tracciamento di prezzi la situazione è un po' bloccata allora che cosa potete fare? Potete buildarvi una pila appoggiandovi agli incontri principali che al momento sono più snelli, diciamo così vengono affrontati prima da un utente che magari ieri si è aperto i pacchettini con i 4600 FC Points e invece di partire a fare questi sta iniziando a farsi prima gli incontri principali incontri principali che hanno comunque movimentato un po' il mercato ma non dovete per forza andarvi a prendere il giocatore di Inter o di Milan basta un giocatore di Serie A come potete vedere, no? non dovete per forza andarvi a prendere il giocatore delle squadre lì dove le trovate, ok, magari facendo AST tanto di guadagnato ma quello che muove di più al momento sono i campionati quindi io vi do un consiglio muovetevi su Serie A, Spagna e Liga e dopo vi spiego anche perché e Manchester City, Arsenal, quindi vuol dire Premier League con Inghilterra quindi abbiamo nazionalità inglese con Premier League nazionalità spagnola con Liga sia maschile che femminile e poi abbiamo Serie A in aggiunta c'è sta pure Fenerbahce Calatasaray però onestamente se vi volete muovere sui turchi più che altro roba starter con giocatori con giocatori bronzo per esempio qualche carta argento ma roba da poco quale carte andare a prendere? vanno bene tutte le carte? allora per questa sfida qui e per questa della Serie A c'è una cosa molto simpatica qui vi chiedono un minimo silver, ok? la gente non ha capito che la può fare anche mettendoci le carte oro c'è l'utente medio che legge silver non si fa il ragionamento se è minimo ci mette le silver quindi avere la possibilità come anche qui vedete il minimo silver caprochi chiedono tre giocatori oro però in queste due che chiedono minimo silver c'è un'ottima movimentazione anche di carte argento relativi ai campionati potete mettere le silver anche qui? sì, lo potete fare anche se non è espresso a schermo perché c'è stato il minimo rating 75 quindi qualcuno ci butterà qualche inglese per dentro qualche inglese di Premier League e così via perché hanno comunque una maggiore rarità le carte silver, le carte argento perché devono essere spacchettate solo nei pacchetti benvenuti nessuno che ha i 4600 FC Points si va a prendere nei pacchi si va a prendere i pacchetti argento ok? a meno che non scula qualcosa chi ha gli FC Points si compra queste e questi non droppano carte argento droppano solo carte oro quindi in queste prime battute le carte argento hanno un ottimo potenziale di flippaggio come andare a buildare qualche altra indicazione con la quale andare a buildare queste SBC? abbiamo detto avete anche le nazionalità Italia secondo me così così però Spagna e Inghilterra sono molto buone soprattutto la Spagna anche iniziando a fare un discorso allargando il discorso a carte oro e ad obiettivi adesso non vi posso far vedere gli obiettivi che purtroppo sulla web app sono bloccati no, c'è ancora il coso bloccato qui però che vi posso dire gli obiettivi richiedono all'interno degli obiettivi ci sono un sacco di richieste per carte spagnole perché questa season è a tema Spagna avete visto che c'è stata Amatraore nella season no? ma anche nei vari obiettivi che ci sono e arriveranno anche dell'SBC altri obiettivi è tutto a tema Spagna quella nazionalità richiede di giocare con carte spagnole e carte della Liga di quel campionato lì spesso mixando perché per fare gli obiettivi tu fai la squadra spagnola così fai meno partite e tutte queste tutte queste carte vengono acquistate hanno più possibilità di essere ciclate rispetto a che non so una carta francese della Ligan che qui non viene non viene diciamo richiesta parliamo di SBC e non parliamo di carte gameplay e al contempo anche per esempio di giocatori tedeschi che non vengono richiesti quindi se proprio dovessi iniziare a partire a costruire un'aprile partirei da Spagna Inghilterra Serie A Liga maschile e femminile e Premier maschile e femminile anche in quel caso lì maschile e femminile per quelli che hanno poco budget e che hanno poca esperienza di compravendita cercando carte allo scarto sia oro intorno ai 300 350 crediti da listare intorno ai 600 650 carte rare argento potete spingervi fino a 250 300 credit 400 credit sono un po' più sono un po' più rare da listare over 1k però perché con la rarità magari ne vendete meno a giro però quando vendete ci guadagnate pure 1k 1k e mezzo io ho listato roba anche over 2k stasera ieri sera mi sono partiti le carte anche a 3k perché nonostante io avessi tanto budget sono andato comunque a prendere pure carte del genere quindi le ho sperimentate ho visto che funzionano e ve le posso consigliare chi ha invece budget piccolo ma più esperienza quindi parliamo sempre di poche o budget ma ha fatto già molte volte lo start ha fatto molte volte ha avuto molte volte a che fare con budget piccoli allo start sa dove andarle a distribuire gli consiglio non solo di fare questo discorso che vale vale lo potete caratterizzare ancora di più perché sapete che comunque se gli date la squadra in più quindi invece di andare a dare il generico andate pure sulle squadre cercate le feed e così via potete ovviamente aggiungere anche queste che è vero che in questo momento la gente magari sta rimandando l'idea di andarsene a fare fino a che footbin non aggiorna e non aggiorna i prezzi però sono sfide che sono già uscite e tanta gente inizierà a farle dopo gli incontri principali raga qua non c'è la sfida buona e quella quella meno buona se voi andate a vedere per esempio io ora vi apro uno delle proposte ci sono già il problema è che non ci sono i prezzi quindi che cosa succede che queste sfide sono statiche ok vengono rilasciate ma non hanno una movimentazione ciclica da feed non mi aspetto che tutti capite questo discorso che sto facendo che sto facendo adesso proprio perché è in riferimento a qualcuno che è più esperto però senza i prezzi che oscillano se i feed rimangono lì bloccate non c'è quella che va sopra quella che va fuori dalle feed quella che ritorna sopra e quindi le carte si muovono di nuovo bisogna un po' sudarsela bisogna vedere quelle che vengono aggiunte di nuovo se ci sta qualche movimentazione insomma un po' di rimescolamento chiamiamolo così delle feed stesse che crea movimentazione e quindi porta nuovi utenti ad andare su carte nuove perché se si vedono sempre le stesse carte non calano e non salgono nemmeno bisogna andarselo un po' a spottare ci vuole tempo ci vuole tempo perché i target non ce li avete sotto mano e su target che vi dovete un po' costruire da soli andando anche a trovare carte che possono essere utili anche per l'altra sbc cioè vi dico per esempio qua vedo delle carte turchi giocatori turchi magari mi viene in mente oh ma questi le hanno chiesti anche per gli incontri principali prendo una carta che può essere utile per due sbc e questo discorso lo potete fare anche per Inghilterra premier per Spagna obiettivi più incontri principali cioè voi più allargate le possibilità di che le vostre carte possono servire per vari sbc e più possibilità avete di vendere quindi chi è un po' più esperto si va a targettare anche le avanzate chi invece ha tanto budget passiamo a budget superiore quindi 400 500k 600k avete sculato qualcosa di pesante che avete già venduto avete caricato un sacco di fc points e semplicemente con il valore di scarto dei pacchetti avete fatto un sacco di credit bene ma siete poco esperti che cosa potete fare stamattina è stato liccato questo questo sbc qui aland che potrebbe arrivare già da stasera era stato già liccato pure alaba nei giorni scorsi oggi mi aspetto un sbc giocatore importante ieri è uscita una giocatrice della liga femminile una spagnola della liga femminile oggi mi aspetto uno di questi due o alaba o aland in versione flashback questa sfida potrebbe essere la sfida top per tutti quelli che hanno insomma budget per iniziare a muovere un po' le categorie molto lento anche nel caricamento come potete vedere io ho cliccato già su una scheda manco me la fa aprire però vedete che ci sono carte da sbc che sono veramente spiattellate al suolo dei giocatori come aland potrebbero iniziare a muovere le categorie bene che stanno iniziando ad aggiornare così per chi è meno esperto a questa schermata e inizierei a prendere quelli cioè vedete a categoria 87 no ci sono solo tre carte che sono da sbc poi il resto sono carte gameplay perché sono staccate di prezzo allora se io devo andare a prendere una carta vado a prendere martinez il tipo per le sbc è una carta gameplay al momento così come lo è in magnan oppure che ne so da quest'altro lato queste stanno a 7-8k poi ci stanno queste che sono 12-13-14 più sono staccate di prezzo e più non verranno messe nell'sbc ma un giocatore o un incastro di sbc che arriva un giocatore come aland può iniziare a mettere in moto questa situazione non è che devono volare queste carte però possono iniziare a mettersi in moto a prendere un po' di hype se avete tanto budget 500k per dire 600k queste carte possono fare al caso vostro perché vi andate a fare una pila di 60-70 carte e li state puntate a fare 2k 3k a carta in hype magari prima che arrivano a sbc si può iniziare a muovere qualcosa perché non avete l'esperienza per andare a toccare carte gameplay prendere le carte cheapest allo start non è mai una grossa move ok perché vi faccio vedere per esempio ve lo piglio dall'anno scorso modricio ok per farvi vedere allo start ecco era 87 quindi lo potete rapportare a quello che sto dicendo sulla categoria 87 ci mettono un po' di giorni a salire vedete però se stanno molto molto bassi nell'arco di 3 giorni qualcosa vanno a prendere se stanno molto molto bassi e secondo me chi ha un budget di 500k può tranquillamente puntare a fare 200-300k in più facendo una pila full carte da sbc che sono veramente veramente bassi questo è un discorso da fare subito io non so questo video quando lo guarderete spero prima possibile perché sono dei consigli da cogliere al volo e quindi vi raccomando di venirmi a seguire tutti i giorni live se non volete fare tardi sugli investimenti perché quando arriva il video ovviamente è già passato qualche orette il tempo di registrare montare pubblicare e voi arrivate più tardi quindi se non volete perdere tutti i consigli che vengono fatti in live seguitemi sul canale Twitch trovate il link nella descrizione e questo è l'investimento per chi ha poca esperienza ma ha tanto budget ultima fascia di investimento qual è? chi ha tanto budget ma ha anche tanta esperienza in realtà non vi dovrei dire niente perché se avete già l'esperienza avete il budget vuol dire che sapete muovere da soli ma io qualche consiglio ve lo do lo stesso se volete fare qualcosa no brain perché state impegnati come lavoro in questi giorni avete roba da fare non potete stare dietro al mercato vi consiglio di prendervi roba del genere ma mettete in pila e arrivederci perché la carta per chi vede adesso è la carta dell'anno scorso semplicemente che ho utilizzato per far vadire l'andamento del prezzo perché Modric chissà anni 86 però avete anche tante carte giocabili il panorama delle carte giocabili basta andare a rifresciare i consigliati no i trending che ci sono su su footgg ma che sono anche che trovate anche sulla dashboard di footbin se c'è la carica mamma mia footbin ragazzi a pezzi tutti questi giocatori perché stanno qua perché sono i giocatori che al momento vengono cercati di più alcuni per evo alcuni perché sono i giocatori più in voga al momento alcuni perché possono essere i giocatori che vengono spacchettati che la gente vuole provare a vendere e così via tutti questi giocatori vi rappresentano dei target gameplay certo se ho 500k non mi piglio magari verner a 3k sia un budget importante cerco di andare su meno carte fare una pila mista magari di argento come lo sto facendo pure io o carte utili per le avanzate perché io mi sto buildando anche quella una pila del genere e cerco di mixare su carte da 15 20k occhio però che questi giocatori più si va avanti nel corso dei giorni probabilmente ci sarà un'inversione sulla domenica barra lunedì l'anno scorso il lunedì inizieranno a soffrire queste carte così non tiratele troppo avanti cioè possono essere anche buone per il fine settimana perché la gente si deve fare la squad si deve fare leve e così via ma più si va avanti più la gente spacchetterà e queste carte un po' alla volta cederanno al peso degli overall quindi questi che sono overall bassi fate molta attenzione a non tirarli troppo avanti man mano che vendete fate crediti potete convertire queste scelte di target di overall piccoli e carte gameplay le potete convertire in carte un po' più grosse di overall che sono comunque gameplay quindi che ne so dei portieri banalmente io l'altro giorno vi feci l'esempio di Dybala che stavo in live l'altro giorno e l'ho flippata è stata una carta che purtroppo non si vedono i prezzi qua anzi ve lo faccio vedere da questo lato qui Dybala è stato uno che comunque mi ha portato profit buoni profit anche in questi giorni quindi convertire da carte piccole e andare su carte che hanno comunque una copertura di overall non è che dovete provare a forza di balla però carte che hanno 85 86 87 88 di overall non SBC non finalità di SBC perché la categoria 87 attualmente quando stava 4k 5k abbiamo visto lì quindi non andate a prendere quelle che sono utili per l'SBC andate a prendere quelle che sono giocabili vedete che comunque le oscillazioni ce l'hanno ma si è un po' stabilizzato rispetto a stanotte ma saranno carte flippabili fate attenzione pure a queste carte queste carte diciamo che rispetto a quelle là con overall piccolo non si sgonfiano all'improvviso però potrebbero iniziare piano 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 a essere meno flippabili piano piano a bloccarsi un po' ci vuole anche tracciamento ci vuole anche occhio su queste carte qui abbiamo parlato di due cose di due giocatori che possono arrivare Alaba e Aland Alaba che è stesso campionato degli obiettivi perché ci sono c'è la liga ci sono gli spagnoli quindi un richiamo ulteriormente a giocatori della liga se io mi devo fare l'SBC di Alaba lo metto in una liga se io mi devo fare Aland lo metto in una premier e quindi abbiamo due campionati al momento mi vado a prendere la ligan da flippare potrei prendermi la ligan da flippare nessuno me lo vieta di andarmi a prendere che cazzo ne so non so manca chi è rimasto marchignos della liga ma perché andare a mettere 20k 25k su marchignos quando i 25k li posso mettere su un giocatore della premier o su un giocatore della liga che ci sta già qualcosa qualche finalità in più di ibridazione quindi occhio si potrebbe essere anche se Alaba è obiettivo meglio ancora se Alaba è obiettivo possono fare tutti quanti senza spendere niente meglio ancora non lo so se sarà obiettivo se sarà SBC ma fate attenzione fate attenzione a queste cose vedete che io vi faccio capire come sto ragionando e come scelgo i target cerco di muovermi lì dove c'è hype cerco di muovermi lì dove c'è sa cose da fare bene se vi è piaciuto questo video vi ricordo di mettere un like qui al canale di iscrivervi nei commenti se avete trovato qualche cosa nelle sculate così vi faccio una macumba e di passare tutti i giorni in live su Twitch ve l'ho già detto prima ma ve lo ridico tutti i giorni in live su Twitch per avere un confronto diretto con me proprio nella chat di Twitch